Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming e benvenuti su Overwatch in questo nuovo video anteprima in cui voglio parlarvi della simmetra post rework. Come ben saprete l'eroe simmetra rientra nella categoria dei support, purtroppo però non è uno dei più utilizzati in quanto il suo skillset base risultava essere poco efficiente nella maggior parte delle situazioni. Dunque la Blizzard ha deciso di farne un rework e attualmente nel PTR, il server di prova su PC, è possibile giocarla e dunque provare ad analizzare tutte le modifiche apportate all'eroe. E al contrario delle anteprime fatte ad esempio per Ana o Sombra, in questo video voglio parlarvi esclusivamente delle modifiche apportate. Un'analisi più dettagliata seguirà in futuro con una scheda eroe interamente dedicata. Innanzitutto iniziata la partita avremo a nostra disposizione subito 6 torrette da poter posizionare, non più 3 come erano prima. L'arma base è sempre la solita con la scarica continua o il colpo caricato e al contrario di prima simmetra non potrà più fornire degli scudi di 25 unità ai propri alleati. Quella skill è stata completamente modificata. Adesso quando la utilizzeremo simmetra lancerà nella direzione che sta indicando un drone che seguirà un percorso rettilineo e che attiverà una barriera simile allo scudo di Reinhard. C'è da dire che questo scudo non è altrettanto resistente e la velocità con cui si muoverà sarà la stessa identica di simmetra. Naturalmente lo scudo è pensato per essere lanciato e poi essere seguito camminando e francamente la trovo un'abilità piuttosto interessante e molto più utile dei miseri scudi di simmetra offre l'opportunità a questo eroe di essere utilizzato anche in fase offensiva, utilizzando questa abilità per far ricaricare ad esempio lo scudo di Reinhard piuttosto che per pushare ad una certa velocità, evitando così eventuali danni random da parte di un junkrat piuttosto che colpi precisi da cecchini o torrette piazzate. Arriviamo infine a parlare dell'abilità ultra. Adesso simmetra ne avrà ben due e al momento dell'attivazione sceglierà lei quale delle due utilizzare. Premendo ripetutamente il tasto dell'abilità ultra le consentirà di switchare tra una e l'altra e naturalmente potrà utilizzarne soltanto una per volta. In entrambi i casi dovrà posizionare per terra un generatore. Questi due generatori però avranno due effetti diversi, uno è il classico portale, tutti conosciamo e rimasto invariato. Il secondo, quello nuovo, sarà un generatore di scudi e tutti gli eroi alleati, simmetra compresa che si troveranno all'interno del raggio d'azione di questo generatore, riceveranno uno scudo di 75 unità e seppur in certi casi potrà sembrare poco, vi consentirà di resistere maggiormente contro tutti i DPS, il che non è poco. Inoltre il raggio d'azione di questo generatore sarà veramente ampio. Purtroppo non viene indicato a schermo, non c'è nessun segno che indica il limite di questo raggio, o perlomeno io non l'ho notato. Di fatto però credetemi è abbastanza ampio, semplicemente andando in addestramento un generatore posto a un'estremità come raggio arriva praticamente all'estremità opposta, quindi ipoteticamente parlando posizionando il generatore al centro della mappa dell'addestramento si potrà coprire tranquillamente l'intera mappa e a mio avviso questa nuova abilità sarà piuttosto utile sia nelle modalità con payload, ad esempio quando il carico deve girare un angolo, posizionando il generatore prima della curva si potrà coprire tranquillamente anche l'altro lato, oppure nelle modalità dove c'è il punto da conquistare, posizionando il generatore che so a una decina di metri dalla zona stessa si potrà coprirla comunque in tutta la sua interezza, abilità che senza dubbio sarà piuttosto interessante da vedere in azione. Altra piccola nota che riguarda sempre la ultra di simmetra, entrambe le ultra, è stata ridotta la salute dei due generatori, sia del portale che del generatore di scudi, però oltre ad essere particolarmente resistenti, invece che vita normale avranno principalmente scudi, quindi si rigenereranno se danneggiati ma non distrutti. Dunque ragazzi per quanto riguarda l'anteprima eroe della simmetra post rework è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete il video con i vostri amici appassionati di Overwatch e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!